Come in tante occasioni durante i viaggi, non Papa Francesco si è acchinato sui dolori delle persone, su quelle donne e su quegli uomini che portano i segni di Cristo crocifisso. Strette di mano, carezze, parole di conforto, sussurrate con affetto. Si è composto di questo la visita alla Chiesa del Cotolengo di Torino, con gli ammalati e i disabili. Il Pontefice ha sottolineato con rammarico che nella medicina e nell'assistenza sociale sono stati fatti grandi progressi, ma si è anche sviluppata una cultura dello scarto. Di cui l'invito a sviluppare gli anticorpi contro questo sistema che esclude anche gli anziani. Papa Bergoglio ha poi parlato di San Giuseppe Benedetto Cotolengo, un santo della carità, ricordando che la ragion d'essere della piccola casa della Divina Provvidenza non è l'assistenzialismo, la filantropia, ma il Vangelo.